La rivoluzione cinese di Mao Zedong, come la Cina, è diventata un paese comunista. All'inizio del XX secolo, la Cina era ancora un impero retto dalla dinastia Qing. Era un territorio prevalentemente agricolo, con poche industrie e un sistema economico dominato dai grandi proprietari terrieri. La maggior parte della popolazione lavorava le terre dei proprietari e viveva in condizioni di povertà. Tuttavia, la Cina era anche soggetta a forti ingerenze dell'Occidente, grazie ai cosiddetti trattati ineguali stipulati nel XIX secolo. Questi trattati permettevano a molti paesi, inclusa l'Italia, di possedere basi, le concessioni, in territorio cinese. Nel 1912, la monarchia fu rovesciata da una rivoluzione guidata da San Yat-sen, fondatore e leader del Kuomintang, il partito nazionalista. San instaurò la repubblica, ma il suo governo non riusciva a controllare efficacemente il territorio, che in molte zone del paese era in mano a leader locali noti come i signori della guerra. Inoltre, il sistema economico non subì significative riforme. Dopo la rivoluzione russa del 1917, l'ideologia marxista iniziò a penetrare in Cina. Nel 1921, a Shanghai, fu fondato il Partito Comunista, che in origine collaborava con il Kuomintang contro i signori della guerra. Tuttavia, gli scontri tra comunisti e nazionalisti si intensificarono nel corso degli anni il 30. Nel 1925, alla morte di San Yat-sen, il controllo del Kuomintang passò a Chiang Kai-shek, che lanciò un'offensiva contro i comunisti. Nonostante ciò, il Partito Comunista continuò a crescere numericamente e riuscì a prendere il controllo di alcune aree del sud, del paese, in particolare nella regione dello Jiangxi. La Seconda Guerra Mondiale portò ulteriori cambiamenti. La Cina si trovò coinvolta nella guerra contro il Giappone, e i comunisti guidati da Mao Zedong giocarono un ruolo cruciale nella resistenza contro l'invasione giapponese. Alla fine della guerra, nel 1949, Mao proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese, con capitale a Pechino. Il Partito Comunista salì al governo, e Mao divenne il presidente del nuovo Stato. Durante il suo governo, Mao sviluppò un marxismo-leninismo ossinizzato, noto come maoismo, e promosse il collettivismo agricolo attraverso il cosiddetto Il Grande Balzo in avanti. Tuttavia, la sua leadership fu controversa, e la cosiddetta Il Grande Rivoluzione Culturale portò a gravi conseguenze sociali e politiche. Le conseguenze della rivoluzione comunista cinese sono evidenti ancora oggi. Nonostante le riforme promosse dalle autorità cinesi negli ultimi 40 anni, il sistema politico ed economico della Repubblica Popolare continua a influenzare il mondo e a suscitare, dibattiti e analisi storiche. Mao Zedong rimane una figura di grande importanza nella storia cinese e mondiale, sia per i suoi successi che per le controversie legate al suo governo. In sintesi, la Cina di Mao Zedong è stata assegnata da una lunga lotta tra comunisti e nazionalisti, dalla guerra contro il Giappone e dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Mao ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia del paese e ha influenzato il corso degli eventi a livello globale. Mao Zedong, noto anche come il grande timoniere, fu una figura colossale nella storia cinese. Tuttavia, sarà per sempre legato all'enormità dei suoi crimini e a un periodo di terrore senza precedenti. Vediamo alcuni dei tragici eventi associati a Mao e alla sua ideologia. L Grande Balzo in Avanti 19581962 Mao avviò una gigantesca campagna per concentrare tutti i contadini cinesi in sole 28.000 grandi comuni, imponendo ritmi di lavoro forsennati per costruire nuove dighe, canali e installare altiforni. Questo piano folle portò a disastri, le dighe crollarono, causando la morte di 230.000 persone, e gli altiforni produssero materiali ferrosi inutili. Inoltre, le famiglie furono distrutte, con uomini e donne separati e costretti a lavorare fino a 20 ore al giorno. La rivoluzione culturale durante questo periodo Mao scatenò una campagna contro la lotta di classe, l'egualitarismo radicale e la mobilitazione popolare. Quasi due milioni di presunti traditori furono imprigionati, uccisi o decisero di suicidarsi. Professori, intellettuali e persino figli che denunciavano i propri genitori furono vittime di umiliazioni e violenze. L'estime delle vittime nel complesso si stima che durante il suo regime Mao abbia causato la morte di decine di milioni di persone. Il fallimento delle Grande Balzo in Avanti portò a una carestia gravissima, con un numero di morti compreso fra 30 e 42 milioni. La rivoluzione culturale aggiunse altre vittime, portando il totale a livelli spaventos. Enne breve, Mao Zedong è considerato uno dei più grandi assassini della storia, superando persino Hitler e Stalin in termini di vittime. La sua ideologia ha lasciato un segno indelebile sulla Cina e sul mondo intero.